La necessità di incrementare le aree più vicine al centro storico in cui parcheggiare è quando sottolinea il consigliere di minoranza Gianfranco Di Piero che in una lettera inviata al sindaco Peppino Ranalli e al comandante della Polizia Municipale Antonio Litigante suggerisce di trasformare via Martiri di Cefalonia, strada che lambisce l'ex caserma Battisti, in un luogo di sosta per auto. Strada questa che era stata interdetta al traffico e alla sosta presumibilmente per motivi di sicurezza trovandosi accanto a una struttura militare. Con il venir meno della destinazione a caserma militare, dell'imponente immobile in attesa delle determinazioni che saranno adottate sul futuro impiego dello stesso, scrive Di Piero si ritiene utile nell'interesse collettivo che la strada possa essere utilizzata in un lato, per la precisione quello contiguo e giardini pubblici, qual è il luogo di sosta dei veicoli. Una proposta lancerata al consigliere alla luce di una condizione di sofferenza riscontrata in particolare nella parte sud della città, nell'area contigua Porta Napoli dove insistono scuole, giardini pubblici e chiese, oltre a negozi e studi professionali, strategica anche per i turisti intenzionati ad accedere a piedi al centro storico.